Il lupo mannaro costituisce ormai da tanti anni una sorta di costante del filore fantasy e horror di Hollywood. Quanti film, quanti telefilm, quante serie televisive hanno visto il protagonista oppure la presenza di lupi mannari. E nell'immaginario collettivo il lupo mannaro, altro non è che un essere umano che morso da un altro lupo mannaro o da un lupo particolare, nelle notti di luna piena si trasforma e diventa appunto un lupo antropomorfo alla caccia di vittime. Bene, fin qua l'iconografia classica. Come si dice lupo mannaro in inglese? Werewolf. Come si dice in tedesco? Werewolf. Abbastanza simile, no? Ma c'è una bella differenza tra il lupo mannaro anglosassone e quello tedesco. Una differenza culturale, tradizionale, ma anche storica. Perché se il lupo mannaro di Hollywood è un'invenzione fatta per intrattenere e spaventare, il Werewolf tedesco è esistito, ma non era un essere soprannaturale. Era forse qualcosa di peggio. Ne parliamo in questo video. Autunno del 1944. La sconfitta della Germania si profila all'orizzonte. Ci sono alcuni gerarchi che organizzano già la fuga all'estero con la costituzione di ingenti capitali a disposizione, e ne abbiamo parlato nel video dedicato all'Odessa, ma ci sono anche altri che non si rassegnano. Anzi, studiano possibilità di un nuovo tipo di guerra, di guerriglia, guerriglia urbana e non solo, da condurre con metodi non ortodossi. L'esempio è sempre lui, Otto Scorzen, di cui abbiamo già parlato, il commando di Hitler, l'uomo che ha compiuto delle imprese, e ne compirà anche ancora, definite come leggendarie. Quindi viene lavorato un piano, addestrare dei giovani, fanatici, indottrinati, pescati all'interno della Hitlerjugend, la gioventù hitleriana, come soldati, ma non soldati da intruppare i reparti regolari. No signori, guerriglieri, né più e ne meno che guerriglieri. Avete visto il film Fury? Sì, quello con Brad Pitt, Shia Leboeuf e compagnia. A un certo punto la colonna di carri armati di Sherman, che è diretta verso una città, viene attaccata a immagini di una strada, e il carro del comandante di Plotone viene fatto saltare con un Panzerfaust. A sparare è un ragazzino, e con lui ce ne sono altri. Sono i Wehrwulfen, vengono rappresentati così al cinema. Sono dei giovanissimi guerriglieri addestrati dalle Waffen-SS, per colpire le colonne in movimento, colpire all'interno delle città, colpire gli ufficiali alleati isolati, colpire e sparire. Questa è la tecnica del Wehrwulf, un nome che si rifà alla mitologia tedesca. Perché in Germania il Wehrwulf non è un uomo che con la luna piena si trasforma in lupo e dà la caccia alle persone. Il Wehrwulf ricorda un'antica tradizione, quella della rivolta dei contadini durante la guerra dei Trent'anni. Una rivolta secondo cui il leader era un misterioso uomo lupo, un leader mai scoperto, che guidava i contadini alla guerra di notte, colpiva e poi spariva lasciando solo tracce di lupo nella neve. Ideologia romantica, no? Un po' come parte della drammaturgia tedesca. Ma il Wehrwulf, quello vero, ossia i reparti di giovanissimi guerrieri, quello non ha nulla di romantico e nulla di fantastico. È realtà. È una realtà che gli alleati toccano con mano, toccano in diverse zone. Già a partire dall'assedio di Aquisgrana, il 21 ottobre del 1944. È in quell'occasione che gli americani fanno la prima conoscenza col Wehrwulf. Già che pochi giorni dopo viene nominato un nuovo porcovastro in città, l'avvocato Franz Oppenhoff, che il Wehrwulf però non riconosce. Lo ritiene un traditore della causa nazionale socialista. Il Wehrwulf colpisce con un'operazione chiamata Carnevale, che non ha nulla di carnevalesco o di buffo. Una ragazza di 22 anni, Ilse Hirsch, dominata tenente delle Waffen SS, e un altro tenente, Wenzel, erano stati paracadutati, assieme ad altri membri giovanissimi, proprio nei soborghi di Aquisgrana, per tendere una trappola a Oppenhoff. Questo per servirsi della conoscenza diretta della giovane Ilse Hirsch, che era conosciuta in casa Oppenhoff. Oppenhoff conosceva l'avvocato, ma anche sua moglie, i suoi tre figli. Ebbene, una sera, Ilse e i suoi complici bussarono alla porta dell'avvocato, e appena questi andò ad aprire, gli spararono in faccia. Era la prima azione del Wehrwulf, rivendicata poi con uno dei tanti freneticanti volantini. Un terrorismo, una guerriglia condotta nelle strade, nelle campagne, nelle città. Tra l'altro, Ilse Hirsch venne ferita, fuggendo da quell'avvocato al sindaco Oppenhoff. Altri membri del Wehrwulf caddero in quell'occasione. Ma non sarebbe stata l'unica occasione di scontro. Poco prima della fine di Hitler, la notte fra il 28 e il 29 aprile del 1945, il Wehrwulf avrebbe colpito ancora, un'altra volta. Questa volta, alla guida non di ufficiali delle Waffen-SS, ma di uno scrittore, Hans Zeberlein, che si era convertito alla causa del Wehrwulf, reclutando altri come lui. L'obiettivo era la città di Pentheberga, dove i cittadini avevano deciso di deporre il borgomastro locale. Otto di questi cittadini vennero uccisi nella notte, e sui cadaveri di ciascuno venne lasciato un volantino, anche questa volta. Monito a tutti i traditori e amorevoli servitori del nemico americano. Il Wehrwulf dell'Atta Baviera ammonisce ad ogni buon conto tutti coloro che favoreggiano il nemico tra i tedeschi. Noi ammoniamo. Traditori e criminali del popolo pagheranno con la loro vita. La nostra vendetta è la morte. Firmato. Il Wehrwulf. Ancora più avanti, pochi giorni prima della fine della guerra, Alcuni giorni dopo, il Wehrwulf avrebbe colpito ancora addirittura un ufficiale britannico, il maggiore John Poston, da certe parte come aiutante di campo, dello stato maggiore del maresciallo Montgomery. Sì, Monty, il vincitore di El Alamein, ma anche il fautore del fallimento del fiasco di Arden, di cui abbiamo già parlato nel video dedicato all'operazione Market Garden. Ebbene John Poston, che si trovava alla guida della propria camionetta da solo lungo una strada di campagna, venne attaccato ai margini di un bosco da una squadra di giovani combattenti del Wehrwulf, che prima spararono al velicolo con un Pazzerfaust e poi, una volta immobilizzato in mezzo, si avvicinarono uccidendo il maggiore con la scarica di milla e lasciando anche in questo caso il volantino con il simbolo del Wehrwulf. Terrore e guerriglia. Ma non sarebbe andata avanti per molto. Già perché la fine della guerra, la resa firmata dal grande ammiraglio Dönitz e anche il tramonto dell'idea dell'Alpenfestung ridotto alpino teorizzato da Goebbels, sostanzialmente pose fine anche al Wehrwulf. Gli alleati, dopo l'omicidio del maggiore John Poston e dopo quelle esecuzioni brutali in Baviera, aveva ricevuto un ordine esplicito, quello di non avere nessuna pietà nei confronti dei combattenti del Wehrwulf. Non importa che fossero poco più che i ragazzi, a volte avevano solo 14 anni, 15 anni, non importa. Chiunque fosse stato sorpreso in armi doveva essere fucilato sul posto e con loro qualunque ufficiale delle baffe in SS, tutti. Era questa la reazione decisa degli alleati nei confronti di quella guerriglia spietata, una guerriglia che si sgonfiò improvvisamente e che scomparve nel nulla, o meglio non proprio, perché l'ombra lumbanga del Wehrwulf si sarebbe fatta sentire, anche più avanti, nel mezzo della guerra fredda. Avete mai sentito parlare del generale Reinhard Gehle? Qualcuno di voi sicuramente, tanti altri no. Ma tutti voi avete sentito parlare di Gladio. E' una nazione italiana di Stay Behind, l'organizzazione clandestina della Nato, pensata come rete da attivare in caso di invasione da parte di truppe sovietiche o degli alleati sovietici. Ebbene, la prima Gladio, la prima rete Stay Behind, non è nata in Italia, è nata in Germania, per iniziativa del generale Reinhard Gehle, che durante la guerra era capo del reparto informazioni del settore orientale dell'obercommando della Wehrmacht. Lui, ritirandosi quei suoi uomini, aveva lasciato in territorio polacco, in territorio tedesco orientale, diversi agenti organizzati in due tipi di reti, le reti Wally e le reti Zeppelin, poi trasformati nelle reti R, cioè Rücher, dietro la schiena. Reti di sabotatori, ma soprattutto di informatori. che sarebbero risultate molto utili agli americani, agli inglesi, agli stessi tedeschi occidentali durante la guerra fredda, per conoscere le mosse del nemico al di là della cortina di ferro. Ma c'è anche un'altra eredità del verbo, eredità più nascosta. L'eredità è rappresentata da alcuni uomini della rete Odessa, nascosti in Germania, che avrebbero utilizzato il loro addestramento, le tecniche di simulazione e anche dei passaporti falsi oppure emessi sotto falsa identità, per favorire nel tempo la fuga dei criminali di guerra o una parziale riabilitazione dei criminali di guerra dopo il conflitto. C'è un motivo se nella Germania federale, negli anni 50, 60, 70, si è fatto fatica a parlare di caccia al nazista. C'è un motivo se la commissione Z di Ludwigsburg non è stata ben vista per tanti anni in diversi land della Germania federale. Questo perché per lungo tempo la penetrazione a livello sociale, in certi casi anche di bassa politica locale, di esponenti ex nazisti era favorita da ex istruttori ed ex membri del Wehrwolf, che smesse alla divisa, abbandonate le armi, avevano abbracciato un'altra guerra, diversa, più sottile, una guerra all'interno della società tedesca, il cui obiettivo non era la conquista, ma era la riabilitazione della figura delle SS e delle Waffen-SS. Sotto la parola d'ordine del cameratismo, l'obiettivo era per pensare al pubblico tedesco che in fondo soldati della Wehrmacht, avviatori da Luftwaffe, marinai della Kriegsmarine, non erano molto diversi dalle SS e delle Waffen-SS. Tutti combattevano perché rispondevano a degli ordini superiori e grazie a questo parte della società tedesca ha creduto in tutto ciò. parte della società tedesca ha rifiutato di prestare ascolto alle prove dei genocidi, dei crimini, dei massacri. Parte della società tedesca ha consentito a diversi criminali di reinserirsi nella società e di non essere puniti come avrebbero dovuto. Forse è questa l'ultima eredità del Werwolf, l'eredità più pesante e più lugubre. Non tracce di lupo nella neve, non agguati ufficiali alleati e nemmeno le esecuzioni di presunti traditori. No. Il reinserimento nella società di chi non dovrebbe avere più diritto di cittadinanza in quella società. Quella a non guandare forse è stata la vittoria più eclatante del Werwolf ed è un qualcosa che ci deve far riflettere perché se non siamo capaci di fare i conti con il nostro passato e se ci facciamo influenzare in maniera negativa e condizionante da quel passato allora tutti noi in fondo di quel passato anche se non l'abbiamo vissuto direttamente ne diventiamo in un modo o nell'altro complici.